alfredo nardoni direttore produzione di super tennis cosa stai ricercando in questa ibc ma guarda purtroppo per il broadcast ormai dobbiamo passare sull'ottio su queste cose qui c'è molto di questo streaming ip e tutte queste tecnologie anche perché bisogna cominciare a diversificare per l'utente l'utente ormai ha voglia di farsi un palinsesso per conto suo quindi noi manterremo il lineare perché è una cosa che per i nostri utenti è importante però vorremmo anche sfruttare la possibilità di dargli la possibilità di farsi da solo un palinsesso in particolare però quali sono i trend che hai colto in questa fiera ma i trend particolari diciamo che non è che mi ha appassionato tanto oggi questa fiera manca molto comunque rispetto agli altri anni è totalmente diverso cioè noi del broadcast secondo me dobbiamo cambiare la nostra mentalità e avvicinarsi a tutto quello che è la parte second string ip e tutte queste cose qui cioè se vieni con la mentalità broadcast qui ormai ti trovi un po' in difficoltà sicuramente super tennis è una televisione che punta alla qualità perché comunque è uno sport che ha una certa dinamica nell'immagine quindi ovviamente deve proporre dei contenuti di alta qualità su che tecnologie vi state basando per fare questo tipo di produzione ma guarda noi siamo passati già quattro anni fa in hd è stato il primo step per proprio eliminare il problema del trascinamento della pallina che all'utente è scomodo insomma è chiaro che il futuro sarà il 4k ma noi diciamo che col nostro hd riusciamo a dare una buona qualità aiutenti avete però una nicchia che sicuramente di qualità e di prestigio e di pregio anche come capacità di spesa si dobbiamo diciamo ad oggi migliorare quello che è la diffusione sul digitale terrestre quello sì che ancora in sd e la nostra nicchia comunque pretende quello pretende e per questo ti dico che noi in hd ci siamo già passati è un ottimo passo rispetto a quello che c'è in italia insomma quindi il prossimo passo secondo me è lo tt o comunque dare second screen dare la possibilità all'utente di gestirsi da solo il materiale che noi possiamo mettere a disposizione mentre il satellite quindi l'ultra hd che tipo di ipotesi avete per questo ulteriore passaggio di qualità che sicuramente nel tennis può portare molto anche sul piano emotivo della frazione del dell'evento ci piacerebbe testare questa tecnologia anche per capire la risposta delle delle telecamere più che altro dei movimenti molto veloci su su questo tipo di sport insomma soprattutto quelle che stanno sotto replay non tanto di comunque anche utilizzando poi la piattaforma satellitare per la distribuzione ovviamente assolutamente sì ad oggi il satellite è quello che riesce a coprire tutte le utenze alfredo nardoni super tennis antonio franco qui dall'ibc di amsterdam per mille canali punto it